Ciao a tutti, qui davanti a noi due losche figure, una si chiama Mantegazza Tiziana, l'altra si chiama Camelò Gans. Stiamo guardando il fenomeno dell'alta marea. In pochissimo tempo si sta riempiendo questa spiaggia, che era tutta così, secca, e adesso arriva, inesorabile, l'acqua. Sì, però guardate che paesaggio ragazzi.